Sono meravigliato come il segretario dell'ONU in poche battute da parte nostra abbia capito lo spirito profondo di Rondine, questa riconciliazione del nemico che in un momento come questo di focolai di guerra a tutti i livelli, sia sul bacino del Mediterraneo, nell'Asia e nell'Africa è veramente un segno profetico che lui ha colto.